wow ragazzi, grazie a tutti, oggi siamo arrivati a 1.500.000 vedi, è incredibile, non ho mai aspettato questo, troppo gente, 1.000.000 ma ovviamente ho avuto un video che ha 2.500.000 vedi, ma oggi è un altro record per il canale, 1.500.000 vedi, quindi grazie a tutti, guardate, non vedete quanto faccio il mio giorno, guardate, c'è anche una buona canzone, se non c'è, probabilmente compito, oggi vi ascoltiamo insieme, guardate, perché questa è la canzone di mio giorno, sicuramente lo vedete anche qui che potete troendo di questa canzone, perché vedete, vedete, sapete, fare mia manica, amo questa曲ma, howl tranquilo, fare mia survivor,ıyorumemi questa salita, Guardate, ragazzi. So, I hope that this music make you. Ciao!